Grazie Presidente, in realtà molto meno perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ringrazio anche l'Aula, finalmente ce l'abbiamo fatta perché questo lavoro è stato fatto soprattutto per gli uffici, ringrazio quindi gli uffici del Dipartimento Simu, la direzione, perché i dipendenti con i quali ho lavorato braccio a braccio sono stati sempre presenti, possiamo dire anche giorno e notte, questo lo posso dire, per apportare queste modifiche che migliorano il regolamento scavi e che sono necessarie per gli uffici per lavorare meglio sul territorio. Dopodiché devo ringraziare anche lo staff della Commissione Lavori Pubblici perché abbiamo lavorato intensamente su queste modifiche, ha portato via veramente tanti giorni di lavoro però insomma siamo soddisfatti perché l'importante è che la politica in questo momento è proprio un esempio aiuti gli uffici per lavorare meglio per la nostra città. Grazie.